E' partita la campagna abbonamenti della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Vieni al palazzetto anche tu a vivere l'emozione del grande basket pesarese. Sconto del 10% per ogni membro del nucleo familiare. E se sei un vecchio abbonato e porti un nuovo abbonato per entrambi, uno sconto del 10%. I bambini fino a 7 anni entrano gratis. Tutte le info su www.vittorialibertas.it